Intro Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Lego Batman, il videogioco per un nuovissimo episodio Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo, nello scorso episodio abbiamo per la prima volta quasi affrontato il Joker Diciamo che abbiamo provato ad affrontare lui e Harley Quinn, alla fine sono scappati entrambi Per fortuna siamo riusciti comunque a salvare il commissario Gordon che era stato catturato da questo super cattivo Oggi dobbiamo proseguire la nostra avventura su questo titolo Come sempre prima di iniziare vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione di questo video perché potete trovare tanti link utili Se volete acquistare Lego Batman 1, 2 o 3 in digitale vi consiglio di comprarli su Instant Gaming Trovate i link in descrizione Ok ragazzi, eccoci qua Terzo episodio di questa mini campagna dedicata al Joker Guardate un po' spaventapasseri Weyla Aia Uh, ha colpito Batman Cattivo Mi sa che ci aspetta un bel inseguimento aereo Dai ragazzi Bello, il volo del pipistrello Allora facciamo Naturalmente attenzione Facciamo un po' di casino Spacchiamo tutto quanto Guarda quanti nemici che arrivano Li tiriamo giù tutti quanti Il Batwing può lanciare siluri per distruggere gli oggetti Lego che hanno un bersaglio viola Ok, l'abbiamo colpito Dobbiamo tirare giù Questi lanciamissili Perfetto Perfetto, distrutto Mi sa che ce n'è un altro dall'altra parte Non capisco a cosa serva questo però più che altro Magari Robin lo sa Guarda che casino che può fare con il suo elicottero No Non si sa Allora, nessun problema Facciamo che procedere Dobbiamo passare da questa parte Uno, due Spaventapasseri Si sta allontanando di nuovo Dobbiamo spegnere quelle fiamme Come sempre ricordatevi di spaccare tutto quanto Ah, guardate Questa struttura probabilmente ci fornisce i missili da lanciare Infatti Ok Si autodistrugge Ah, abbiamo direttamente distrutto tutto quanto Anzi, noi non abbiamo fatto niente E' la postazione Di missili che ha distrutto il ponte Però ci voleva un livello Dedicato al batwing Ok, minikit recuperato Mi ricorda Questo livello qua mi ricorda tanto quei giochi Da sala giochi Con gli aerei Di qua non si può passare Dobbiamo trovare un modo per spegnere quelle fiamme Magari Robin Può darci una mano Ok ragazzi Per superare quel condotto in fiamme Dovete rompere la struttura che c'è qua Prendere l'elicottero di Robin E recuperare Questa mina Per poi sganciarla Contro Questa struttura No, l'ho lanciata male Aspetta, 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 aspetta Ok, l'ho recuperata al volo No, l'ho persa Ah, possiamo lanciarla anche contro lì Ok, vediamo cosa succede Ah, ho sbloccato un minikit extra Perfetto Vi ho mostrato anche come Recuperare un minikit extra Adesso recuperiamo anche l'altra mina Perché tanto ne apparirà un'altra Continueranno ad apparire Fino a quando Non avrete distrutto Quel condotto del gas Ok Dovete andare Praticamente addosso Ho perso L'elicottero di Robin Ma No problem Come avete visto è Rinato immediatamente Allora Continuiamo a inseguire Lo spaventapasseri Distruggiamo tutto quello che troviamo Mamma mia Che casino Lì ci sono altre mine Da Recuperare Facciamo fuori sti Sti veicoli che Supportano Lo spaventapasseri Vai Robin Difenditi Qui recuperiamo questa Da lanciare Contro queste tubature Dobbiamo distruggerne tre La seconda si trova qua Vai Robin Perfetto Oh Sono esploso anch'io Ah guardate I missili per Batman Ottimo lavoro Aspettate che distruggo L'ultimo Ah Ce ne sono ancora due Ah è vero Erano tre Vai Dai che ce la possiamo fare Andiamo a distruggere L'ultima Che si trova Qua Attenzione che non ho più punti salute Attenzione che non ho più punti salute Ok Piano Piano No 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 Vai Robin E' una specie di labirinto E' una specie di labirinto Ok ce l'abbiamo fatta Minikit sbloccato Ok preso Adesso tocca a te Batman Allora il primo lanciarazzi L'abbiamo distrutto Distruggiamo anche il secondo Sblocchiamo quella porta Qui attenzione che questo gas Ci fa male Oh finalmente possiamo affrontare Lo spaventapasseri Ha soltanto tre cuoricini Ma stiamo attenti eh Stiamo attenti Voglio quel minikit Datemi quel minikit Sto distruggendo tutto quanto Che spettacolo Guardate quante monetine Sto recuperando No non posso distruggere Quel lanciamissili Questi qui Questi qui non esplodono Comunque Di qua non si può andare Guarda come mi corre dietro Lo spaventapasseri Magari con l'elicottero Di Robin Ah aspettate Posso agganciarlo E una volta agganciato Robin aggancialo Ok una volta Eh però scappa Una volta agganciato Batman può lanciargli un missile Ahia sono esploso io Però stavolta Vai Ok colpito Secondo cuoricino Andato Sì diciamo in due Forse sto Livello qua È molto più facile Ah ma adesso saltiamo di nuovo Non vi preoccupate Perché tanto Ho anch'io soltanto un cuoricino Ecco gli altri missili Robin Eccolo Appena Appena l'abbiamo chiamato Vai che lo colpisce Preso Ce l'abbiamo fatta Guarda che si scontra con Joker Mamma mia che macello Ma io sinceramente l'ho trovata Una boss fight Ah ok si sono salvati entrambi Io sinceramente l'ho trovata Una boss fight Abbastanza deludente Se devo essere sincero Ma aspettavo qualcosa di più Comunque come sempre Direi di schippare tutto quanto Va bene ragazzi Siamo tornati Nella Bat Caverna Livello abbastanza Deludente Forse uno dei più brutti Di questo gioco Corto E con una boss fight Troppo semplice Cioè Alcuni cattivi Avevano molti più cuoricini E La boss fight Durava sicuramente di più Più che altro Perché Si divideva in più fasi Rispetto a questa qua Con Lo spaventapasseri Qui bastava bloccargli L'elicottero con Robin E colpirlo Con Batman Vabbè Speriamo che il quarto episodio Sia un po' più bello Da giocare Come sempre Spero che questo video Comunque vi sia piaciuto Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi al canale E ci vediamo in un prossimo episodio Sempre qui Su Lego Batman Il videogioco Alla prossima ragazzi Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al canale